Ah 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 E' un'altra cosa propria Ultima nuova Il pregio ti era preso E non ti ha guardato adesso Che peccato Che peccato Che stai facendo? Che ti va quando has Uno scuro Due, 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 due Due, 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 due Due, 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 due Due, due legge C'è il cuore No, io volevo Prendi il cuore Prendi il cuore Prendi il cuore mamma non c'è proprio rispetto, non ti fanno vincere la zia è vicogliosa secondo me vuoi togli quelle panni di mezzo per piacere? no tu devi fare più vicino, sono divene propri quello che a lei ogni Natale avrei voluto averlo io quanto basquale ti fa prendere lì? l'ho metto è buono, riprendetelo bene parla parla un po' ti ricordo quando me lo dite a me? quando sto parlando la 600? mamma quanto me l'hai detto quel giorno lì? quando me l'hai dite mamma mia? ti ricordo quando ti sto perdendo le mie salari che sei messo prima di esperienza? io volevo appicciare la casa Sì. No, ma l'esperienza è riuscita. Non so che cosa è, ma è molto buono. Io sempre quando tu mi dici... Sto proprio come la strega. Sempre così. È ben certo. Al naturale. Bene, al naturale. Sì, sì, vai, vai. Ma se mi si dai la vittoria. L'hector verso. Quando ci fai... Don Valentino prendi... Don Valentino prendi... Un abbraccio a zia Antoni, forza. Un abbraccio a zia Antoni, eh. All'orgio. Dite qualcosa. Questa è la più bella cucina che c'è lì. Sì, mamma mia. Quali sono i termini di paragone? È sempre stata la Miss Visconti quella signora qua, eh. È la più bella in assoluta. I termini di paragone. La signora io dovevi vedere che ragazzina che era. Eh, non perché non la conosce quando lei era ragazzina. No, non la conosce quando era ragazzina. No, non la conosce quando era ragazzina. Era piccolina. Vabbè. Fai. La strave. La strave significa salute. In bulgaria non la temai. L'anno scorso, l'anno l'abbiamo fatto. Ah. Ma, io non ho capito. Questa cosa che si... Ah, no, no, basta. Questa cosa che hai detto tre file settimana in tre capitali europee, un'ora e mezzo. Mi sembra questo. Dio è nipote. Attenzione che già è una fine di... Ciao, Barton. Ciao, vogliamo. Segui qui, non lo so. No, ma che margine posso basare che c'è? Delle... 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 Questa qui... C'è? 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 Non capisci, qua ci sono due asini e due scelsiani, cosa vuoi? Violetta, sei contenta? Sì, sono contenta, sono davanti all'arco di trionfo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.